le prime anticipazioni sui palinsesti rai della stagione 2024 2025 volete sapere quando kenyaman tornerà in video e presto detto kenyaman sta per tornare le anticipazioni della programmazione tv 2024 25esimi rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda di sandokan la nuova fiction colossal che vede protagonista kenyaman sandokan arriva su rai 1 con kenyaman nei palinsesti 2024 2025 anche nella prossima stagione televisiva rai 1 continuerà a puntare sulla messa in onda di fiction che troveranno spazio nella fascia serale è questo il caso di sandokan un nuovo ambizioso progetto prodotto da lux vide con rai fiction di cui attualmente sono in corso le riprese in calabria a vestire i panni della celebre tigre di monpracem ci sarà l'attore turco kenyaman che in questi ultimi anni è stato protagonista su canale 5 con la serie televisiva viola come il mare di cui pier silvio berlusconi ha già confermato la terza stagione nel remake di sandokan figurano i nomi di ed westwick nei panni di lord james brooke e di alessandro preziosi in quelli di janez insomma si parla di ottobre e o novembre 2024 per la messa in onda di sandokan contenti